C'è un approccio un po' light. Immagino che molti di voi, o forse tutti, abbiano avuto per le mani la settimana enigmistica della quale io sono un affezionato lettore estivo. In questa settimana enigmistica c'è il gioco più semplice di tutti, si chiama la pista cifrata, ed è fatta da una serie di puntini numerati e il gioco infantile di connetterli con una matita per vedere che cosa ne esce. Beh, quello che io vorrei cercare di fare adesso è fare una operazione del genere, cioè mettere insieme alcuni punti per vedere che cosa ne esce. Il mio problema rispetto alla settimana enigmistica è che questi punti non sono numerati e quindi è un po' più complicato riuscire a far emergere un'immagine compiuta e chiara. Comunque io ci provo, non vi garantisco sull'esito ma sicuramente sulla mia buona volontà e l'obiettivo è quello di stimolare delle riflessioni sul mondo in cui viviamo, sulla fase che stiamo attraversando. Il punto di partenza di questa pista non cifrata è la crescita delle disuguaglianze. A mio parere la crescita delle disuguaglianze è il fenomeno più rilevante, il fenomeno chiave del tempo che stiamo vivendo perché determina una serie di effetti e di implicazioni che per qualcuno, me compreso per esempio, sono anche di tipo etico ma guardando la questione più oggettivamente, più generalmente, le implicazioni sono di tipo sociale, la qualità delle società, la coesione sociale, di tipo politico, di tipo economico. Nuri e Rubini, economista che aveva predetto la grande crisi, sostiene addirittura che l'aumento delle disuguaglianze è uno dei fattori di caduta della produttività o dell'aumento della produttività che stiamo vivendo anche in paesi molto più tecnologicamente avanzati di noi. In tutti i paesi si vede una stagnazione se non un arretramento della produttività e Rubini dice che la ragione di fondo dietro a questa stagnazione è l'aumento delle disuguaglianze. Per cercare di seguire questo percorso comincio un po' da lontano ma molto brevemente e cioè dagli spostamenti di ricchezza. L'Occidente ha avuto per tre secoli, quasi quattro secoli, direi il monopolio della ricchezza mondiale, poi a un certo punto negli anni 70 c'è stato un primo trauma con le due crisi petrolifere che hanno determinato uno spostamento di ricchezza dai paesi consumatori di petrolio, cioè noi ai paesi produttori di petrolio. Un fiume di dollari che si trasferiva dall'Occidente, diciamo così, a certe zone del sud del mondo. Successivamente con gli anni 90 è cominciato un altro enorme flusso di spostamento che da Occidente questa volta non è andato tanto verso il sud del mondo ma verso l'est del mondo ed è stato il ciclo di grandi investimenti, le delocalizzazioni eccetera, nei paesi orientali, soprattutto la Cina, dove il costo del lavoro era più basso. Subito dopo quel flusso di investimenti ma anche in parallelo a quel flusso di investimenti, questi investimenti hanno determinato un aumento della capacità produttiva di questi paesi e questi paesi hanno cominciato a espostare quantità enormi di mercine verso i paesi occidentali e quindi noi abbiamo alimentato un altro flusso di ricchezza da Occidente verso Oriente. Quindi diciamo a un certo punto della storia ci siamo risvegliati che c'erano anche gli altri con i quali condividere la ricchezza e ci sono stati questi due grandi flussi che hanno spostato risorse dall'Occidente verso altre parti del mondo. Questa nuova geopolitica della ricchezza ha avuto un effetto positivo importante, che le disuguaglianze tra paesi sono diminuite. Se noi vediamo com'era i redditi pro capite o i PIL dei paesi che chiamiamo emergenti ma che oggi sono emersi con i paesi industrializzati ci siamo avvicinati molto e quindi questo è un fattore positivo, le disuguaglianze tra gli stati sono diminuite. L'altra faccia della medaglia però è che sono aumentate enormemente le disuguaglianze all'interno degli stati, in quasi tutti i paesi del mondo, diciamo dalla metà degli anni 80, 1985-1986 a oggi questo processo è stato costante e comune a buona parte del mondo. Anche qui questi aumenti delle disuguaglianze all'interno dei paesi seguono due tipi di flussi. Un primo flusso è stato un forte spostamento della ricchezza prodotta dal lavoro al capitale, nel senso che sulla ricchezza prodotta ogni anno, per esempio in Italia, la quota che va a remunerare il capitale è aumentata in questi anni, direi dalla metà degli anni 80 oggi, più o meno del 6% e lo stesso è avvenuto in misure simili negli Stati Uniti, nel resto d'Europa, in Cina, in Brasile, in Giappone e via elencando. Il motivo per cui c'è stato questo spostamento della ricchezza è che il 6% del PIL italiano sono 100 miliardi, sono 100 miliardi l'anno che si sono spostati dalla remunerazione del lavoro alla remunerazione del capitale, è uno spostamento imponente, non è uno spostamento marginale. Il motore di questo spostamento sono la globalizzazione e la tecnologia, lo abbiamo sentito raccontare in tutte le salse, ovviamente la globalizzazione è stata consentita dalla tecnologia, quindi in realtà è la tecnologia il motore primo, cioè la globalizzazione è il figlio di un mutamento politico, con la caduta del muro di Berlino, eccetera, eccetera, però la globalizzazione economica aveva una precondizione nella possibilità politica di investire, di produrre, di importare ed esportare in pezzi di mondo prima esclusi, ma è la tecnologia, la connessione, la diminuzione dei costi di trasporto e di comunicazione che hanno consentito di realizzarsi a questa globalizzazione. Quindi poi ci sono in questi momenti delle disuguaglianze altri fattori specifici, politiche fiscali che hanno privilegiato una maggiore o minore redistribuzione, forza o debolezza del sindacato, opportunismo fiscale delle multinazionali, ruolo della finanza, insomma ci sono stati tanti fattori che hanno determinato questa cosa a livello locale dei singoli paesi, ma globalmente il meccanismo è stato il rapporto globalizzazione tecnologia che ha determinato questo spostamento. Il secondo flusso, molto importante anche esso, avviene all'interno del mondo del lavoro. All'interno del mondo del lavoro già vediamo che di acqua, su tutta l'acqua disponibile, ne arriva meno al mondo del lavoro, però questo flusso che arriva nel mondo del lavoro si divide e una parte sempre crescente in questi anni è andata a remunerare una fascia piccola di lavoratori che guadagnano moltissimo. Grandi manager, abbiamo visto persone che guadagnano 10, 15, 20, 100 milioni di euro l'anno, un milione di euro l'anno, due milioni di euro l'anno, star dello spettacolo, dello sport, grandi professionisti. Quindi c'è una fascia, diciamo, o anche non andando così in alto, professionisti o operatori avanzati in settori tecnologici o del marketing o della pubblicità, eccetera, eccetera, che hanno redditi ormai di centinaia di migliaia di euro o dollari l'anno. Quindi c'è una parte della remunerazione, della parte della ricchezza prodotta che va a remunerare il lavoro, una parte crescente si concentra su un numero relativamente piccolo di grandi, come dire, di lavoratori dai grandi redditi e diminuisce progressivamente la parte che va a remunerare i più, cioè i nostri redditi, diciamo, il reddito medio e il reddito dei lavoratori meno qualificati. Questo fenomeno, questi flussi, questi due flussi che io vi ho raccontato, hanno determinato un aumento delle disuguaglianze, sul quale si sono innestate, con rapporti di causa-effetto molto intriganti, alcuni passaggi tecnologici. Cioè adesso vediamo, per esempio, che quella che si chiama sharing economy o platform economy sta incidendo su alcune fasce di lavoro medio molto significative. Amazon uccide il mercato dei libri, dei librai, per esempio. L'e-commerce distrugge, svuota i centri delle nostre città di piccoli negozi. Quindi queste nuove tecnologie, in un certo qual modo, determinano anch'esse un impatto molto ambiguo, e adesso vi spiegherò perché, perché questo è il punto al quale voglio arrivare, su quella che definiamo classe media. Cioè il vero sconfitto di questo ciclo è essenzialmente la classe media. La classe media che è quella che percepiva redditi medi con una certa sicurezza, con una certa stabilità, e che ha visto erodersi questi redditi, o moltissimo, in alcune fasce, soprattutto quelle appunto del piccolo commercio, della piccola imprenditoria, dell'artigianato, la sua stessa possibilità di stare sul mercato. Da un punto di vista macroeconomico, l'effetto di tutto ciò, cioè tecnologia, globalizzazione, platform, economy, eccetera, eccetera, è un effetto deflattivo, perché la riduzione del costo del lavoro, la competizione del costo del lavoro più basso, nei paesi emergenti, ha ridotto il prezzo dei beni che noi compriamo, e quindi ha ridotto, i coil, ha avuto un effetto deflattivo. La sharing economy, disintermediando, per esempio, il commercio, o Airbnb, l'ospitalità turista, l'alberghiera, o Uber, il servizio ai taxi, o via l'encando, riducono i costi di una serie di servizi, e quindi hanno un effetto deflattivo. però hanno, oltre a questo aspetto macroeconomico, hanno un altro effetto molto importante, del quale vi ho appena accennato, che è uno spiazzamento del mercato del lavoro, che vede una perdita consistente di opportunità e di attività tipiche, come dicevo prima, della classe media. Pensate ai bancari, il bancario è il profilo tipico, era un posto pregiato, quello in banca, fino a dieci anni fa, sicuro, oggi, diciamo, non ce n'è più, nel senso che entra in banca molto meno persone di quelle che entravano prima, e soprattutto molto meno di quelle che ne escono. Il sistema bancario oggi butta fuori i suoi dipendenti. Quello era un pezzo tipico, direi, quando io mi sono laureato, il sogno di mia madre era che io andassi a lavorare in banca, perché era un lavoro sicuro, ben remunerato, eccetera, e anche socialmente. Ma pensiamo a tutti gli operatori, che ne so, delle agenzie turistiche, dei personale degli aeroporti, oggi chi compra più un biglietto, oppure fa un check-in fisicamente, ormai tutto questo è disintermediato, quindi si stanno una quantità di figure che sono cancellate, e mentre i robot hanno cancellato il lavoro di operai, operai specializzati, e questo progredirà, e la quota di lavori, non solo ripetitivi, ma anche non ripetitivi, di concetto, e di concetto più alti, quindi proprio tutti quelli della fascia media, sono sfidati dall'evoluzione tecnologica, come diceva prima Bellicini, prima hanno toccato i muscoli, le precedenti rivoluzioni industriali, adesso toccano anche il cervello. Questa evoluzione sul mercato del lavoro ha determinato, nei paesi, diciamo, un po' in tutti i paesi, ma parliamo dei paesi occidentali, un effetto, e cioè la riduzione di opportunità di lavoro e di posizione di lavoro della fascia media, e un aumento di quelle di fascia alta e di quelle di fascia bassa. Quindi sono aumentati, faccio un esempio banalissimo, l'e-commerce toglie il lavoro nei settori del commercio tradizionale e aumenta esponenzialmente il lavoro nel settore della logistica, cioè la gente che va a consegnare i pacchi. Ovviamente c'è una differenza di qualità tra questi due lavori, perdiamo lavoro medio e acquistiamo lavoro basso, o lavoro alto, perché nella logistica ci sono anche delle teste, c'è software, c'è gestione, eccetera, eccetera. Naturalmente i numeri sono un po' diversi. La cosa un po' frustrante è che guardando i paesi europei con i quali noi competiamo o ci confrontiamo, nella maggior parte dei paesi europei crescono di più i posti di lavoro alto rispetto ai posti di lavoro basso, mentre in Italia avviene esattamente il contrario. E questo è un po' preoccupante perché vuol dire che il nostro tessuto si impoverisce. Cioè se il lavoro medio diminuisce, il lavoro alto cresce poco, cresce più, il lavoro basso, il nostro sistema è un po' più povero e questo è un dato negativo. Perché sta avvenendo questo? Beh, le ragioni sono due, e di cui una abbastanza nota, la seconda meno, come dire, intuibile. La prima ragione è che la nostra struttura economica, fatta di imprese troppo piccole, non assorbe, non richiede lavoro qualificato. E quindi non assorbe, non c'è domanda di lavoro alto. Ho visto tempo fa, ho anche scritto un articolo sul fatto, per esempio, che in Italia la quota di manager, di dirigenti sulla popolazione è la più bassa d'Europa. Per un paese industrializzato, settima, ottava, nona potenza industriale del mondo, è un dato che ci dice qualcosa e che ci dà anche qualche elemento di preoccupazione. La seconda ragione per la quale cresce più il lavoro basso e cresce poco il lavoro alto è che il lavoro qualificato, uno dei grandi, come dire, occupatori di lavoro qualificato è il mondo pubblico. E da dieci anni la pubblica amministrazione, compresi scuola, sanità e amministrazione pubblica, non assorbono più praticamente laureati. E questa è una delle ragioni per cui abbiamo una disoccupazione intellettuale così elevata in Italia nella fascia tra i 24 e i 35 anni perché è uno dei più grandi assorbitori che è la pubblica amministrazione. Le aziende hanno sempre assorbito relativamente poco, le banche non assorbono più, ma anche rigettano. La pubblica amministrazione non ha assorbito più. Noi oggi abbiamo una percentuale di occupati nella sanità, nella scuola e nella pubblica amministrazione più basse rispetto alla popolazione di tutti gli altri paesi europei. Anche se abbiamo la sensazione che sia ridondante, questa pubblica amministrazione è certamente molto inefficiente ma anche poco dotata di risorse umane. Aggiungo un altro elemento secondo me interessante su come questo cambiamento, questa trasformazione nella distribuzione della ricchezza ha colpito i vari segmenti della nostra società in questo secolo, in questo millennio che è da poco cominciato. All'inizio degli anni 2000 in Italia con l'ingresso dell'euro che ha determinato un aumento di fatto dei prezzi perché è stato gestito molto male come sappiamo l'ingresso dell'euro al contrario di come è stato gestito in altri paesi ha penalizzato di più gli occupati. Quindi la classe media gli occupati in generale ma la classe media occupata, impiegatizia diciamo così è quella che ha sofferto di più all'inizio del millennio. Con la crisi invece gli occupati e in particolare la classe media impiegatizia essendo protetti hanno sofferto di meno e hanno sofferto di più decisamente di più la piccola borghesia imprenditoriale cioè artigiani piccole imprese piccoli commercianti che sono stati anche parte di professionisti che sono stati fortemente penalizzati dalla crisi e dai fattori di trasformazione dell'economia che li hanno buttati in qualche modo fuori dal mercato. Dal 2014 la ripresa c'è sia pure debole ma insomma in via di rafforzamento è anche percepita dalle varie classi sociali ed è percepita da tutte le classi sociali ma all'interno della classe media quella che la percepisce meno questa ripresa è proprio quella piccola borghesia di piccoli imprenditori di commercianti di artigiani che non la toccano con mano perché sono stati marginalizzati dal mercato dal fatto che il mondo è cambiato e che nuove tecnologie hanno determinato questa cosa a questo punto proviamo a fare un collegamento ed è il collegamento tra questa diciamo aumento delle disuguaglianze e questa nuova situazione della classe media con il quadro politico e geopolitico le categorie più penalizzate dall'aumento delle disuguaglianze quelle che si sono sentite più trascure non rappresentate dai partiti politici tradizionali quelle che hanno percepito un distacco crescente dalle classi dirigenti hanno coltivato un sentimento di frustrazione e di crescente incertezza a volte anche di rabbia che hanno trovato rappresentanza nei nuovi partiti che noi oggi definiamo populisti e che spesso hanno anche dei tratti nazionalisti esprimendo un rifiuto della globalizzazione un'idea diciamo che si possa tornare a recuperare le perdute certezze chiudendosi in mondi più limitati non ho bisogno di fare esempi che testimonino di questa tendenza la Brexit è stata votata non a Londra cioè hanno votato a favore della Brexit le fasce centrali dell'Inghilterra quelle diciamo che non hanno partecipato a diciamo la ripartizione della ricchezza nelle fasce più alte anche dei lavoratori l'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti è un'altra testimonianza sono categorie sociali e aree geografici non è stato votato Trump né a New York né in California ma negli Stati Centrali degli Stati Uniti i risultati delle elezioni tedesche con la prima volta che entra in Parlamento un partito dell'estrema destra il voto austriaco di pochi giorni la Catalogna il referendum in Catalogna tutti questi fatti che io ho elencato avvenuti negli ultimi tempi hanno avuto apparentemente e in parte realmente come catalizzatore il fenomeno migratorio diciamo che il fenomeno migratorio è stato quello che ha assorbito le paure e le incertezze anche su basi percettive molto più forti di quelli reali la città del Regno Unito che ha votato più massicciamente la Brexit ha una quota zero di immigrati per dire molte volte c'è un fenomeno percettivo le regioni americane del Middle West che sono quelle che hanno più votato Trump non hanno grandi fenomeni di immigrazione per cui diciamo comunque il catalizzatore di questa difficoltà è stato il problema delle migrazioni mal gestite quindi un problema reale assolutamente da non minimizzare ma un problema reale e complesso ma la ragione vera di quel disagio era la perdita di reddito di ruolo sociale e di sicurezze di sicurezze economiche di crescita eccetera eccetera tanto vero che alcuni analisti più avveduti hanno interpretato il voto tedesco nel quale il partito della Merkel e le socialdemocratici hanno perso tra tutti e due credo 4 milioni di voti in parte con la questione dei migranti ma molto con il fatto che la Germania si è riempita di mini job cioè di lavoratori poveri e le infrastrutture tedesche sono peggio di quelle italiane perché la politica del pareggio di bilancio anzi del surplus di bilancio di Schäuble il ministro dell'economia tedesco ha determinato in qualche modo un impoverimento di quel paese ricchissimo dal punto di vista dei beni comuni e della qualità del lavoro cioè un paese come la Germania che ha 7 milioni di lavoratori poveri è qualcosa che come dire crea un disagio sociale che poi trova espressione in questa in questa diciamo scelte politiche che hanno degli effetti geopolitici perché quello che stiamo vedendo adesso è che questa serie di smottamenti spinge verso la ricostruzione delle frontiere spinge verso contrapposizioni spinge verso forme di protezionismo tariffario non tariffario spinge verso la fine del tramonto del multilateralismo diciamo che l'effetto lungo socio-politico della globalizzazione della evoluzione tecnologica di questi anni è un ritorno del pendolo no? cioè prima massima apertura forse non gestita ottimamente che ha determinato delle reazioni che spingono verso la chiusura e questa chiusura va a incidere sulla crescita prospettica cioè si cresce tutti gli studi serissimi dicono che si cresce di più in un mondo più aperto che i paesi aperti crescono di più hanno una crescita più stabile sono più resilienti cioè regiscono meglio le crisi di sistemi chiusi quindi abbiamo una prima connessione molto importante tra globalizzazione e tecnologia e come dire il ritorno indietro no? rivoglia di chiusura il secondo collegamento è di natura economica e socio-economica e sarò cercherò di essere più breve allora come ha fatto la classe media impoverita che si è impoverita dagli anni 80 ad oggi a reggere e tutto sommato fino allo scoppio della crisi del 2008 a consumare come mai aveva consumato prima nella storia bene per qualcuno la tecnica è stata quella di stringere la cinghia ovviamente e consumare magari risparmi accumulati per molti l'indebitamento l'indebitamento privato delle famiglie è cresciuto moltissimo negli Stati Uniti in Irlanda insomma in molti paesi ma anche in Italia è cresciuto abbastanza ed è stata una delle cause della bolla che poi scoppiata nel 2007 2008 ha determinato la lunga crisi però c'è stato un altro fattore di cui ho parlato prima che ha in qualche modo attenuato e cioè l'economia low cost e la sharing economy che hanno avuto da una parte l'effetto di impoverire la classe media perché hanno tolto posti di lavoro qualificati oppure hanno spremuto non so Ryanair paga pochissimo i suoi dipendenti adesso infatti c'è una crisi in corso paga pochissimo i suoi dipendenti che però sono classe media cioè sono giovani sicuramente diplomati o laureati che parlano più lingue quindi sono un lavoro qualificato però Ryanair li spreme quindi questa economia low cost da un certo punto deprima i redditi della classe media ma dall'altro gli consente con redditi minori di fare più cose perché insomma io non sono l'unico qui dentro ad aver superato i 50 io personalmente ho superato anche i 60 vi ricorderete che vent'anni fa per andare da Roma a Londra o da Roma a Parigi ci volevano 400 500 mila lire perché c'erano soltanto le compagnie aeree di linee adesso con i voli low cost si viaggia nel termine delle decine di euro e quindi anche una famiglia medio borghese impoverita ha forse più di prima potuto viaggiare adesso con Flixbus anche in autobus si viaggia con pochi euro e non con quindi c'è un'economia low cost che ha attenuato moltissimo l'impatto sui redditi di questo impoverimento ma gli stessi oggetti le cose che compriamo costano molto meno in rapporto a quanto costavano molto prima e adesso la sharing economy sta aggiungendo un altro fattore cioè una possibilità di reddito io immagino io ne conosco tre quattro di persone ma immagino che molti di voi abbiano dei conoscenti o degli amici che integrano il loro reddito o comunque hanno messo a reddito una parte della casa in cui abitano o case di proprietà nelle quali non abitano attraverso airbnb questo è un meccanismo in cui la sharing economy certo riduce i redditi degli albergatori ma consente di integrare i redditi di chi ha qualcosa non so se conoscete BlaBlaCar è un'altra di queste piattaforme i nostri ragazzi che viaggiano in macchina condividono la spesa del viaggio attraverso queste piattaforme questo è molto interessante per diciamo quello che io cerco di raccontarvi oggi perché ci dice come la tecnologia che alla base di trasformazioni sociali che per un ciclo determinano dei problemi delle tensioni degli impoverimenti nello stesso tempo poi in una parte di questo ciclo offrono delle soluzioni e quindi se queste soluzioni vengono colte e vengono naturalmente gestite la tecnologia che è la causa diventa anche la soluzione in una grande circolarità un altro vorrei concludere con un'ultima connessione ed è quella tra la globalizzazione messa in crisi da questo ritorno dei nazionalismi di cui abbiamo visto le origini con la quarta rivoluzione industriale della quarta rivoluzione industriale ha parlato Lorenzo Bellicini ne avevamo parlato a Udine l'anno scorso ci stanno moltissime cose da dire da approfondire ma non è questo quello che io mi propongo di fare la quarta vi cito un piccolo episodio tempo fa facendo una ricerca per l'università di Firenze su industria 4.0 ho girato un certo numero di imprese italiane per vedere come veniva applicata in concreto questa industria 4.0 al Nuova Opinione di Firenze che è un'azienda molto importante che fa parte del gruppo Generale Electric una grande multinazionale la più grande multinazionale del mondo un quadro di questa azienda che era un rappresentante sindacale mi ha detto la industria 4.0 è il modo in cui il mondo delle imprese delle multinazionali diciamo il capitalismo ha trovato un nuova via per crescere quando la via determinata diciamo consentita dalla globalizzazione si è andata esaurendo ora ovviamente le cose non stanno esattamente così nel senso che la quarta rivoluzione industriale come tutti i basi tecnologici nascono dal fatto che le conoscenze e le tecnologie rendono qualcosa possibile quindi c'è stato un balzo nelle conoscenze delle tecnologie che rendono possibile la quarta rivoluzione industriale però quello che mi ha detto questo signore molto intelligente mi ha aperto una finestra perché in effetti c'è una connessione tra le frontiere che si chiudono e l'industria 4.0 e questa connessione è in quello che l'industria 4.0 rende possibile l'industria 4.0 secondo uno studio recentissimo di Boston Consulting Group promette di ridurre di ridurre di un terzo cioè di aumentare del 30% della produttività e di ridurre considerevolmente i costi e in sostanza di cambiare come dire la logica dell'economia di scala la grande fabbrica che serve tutto il mondo potrebbe non essere più necessaria perché la tecnologia di industria 4.0 consente di fare fabbriche più piccole più flessibili ma con altrettante economie per rimanere competitiva e questo consente in qualche modo di rinazionalizzare o cioè di ricollegare le produzioni ai mercati quindi in un certo qual senso le tecnologie di industria 4.0 consentono di risolvere o comunque di attenuare il problema determinato dalla crisi della globalizzazione quindi ancora una volta la tecnologia che è tra le ragioni per cui i cui effetti sociali hanno determinato una crisi della globalizzazione determina la come dire trova in sé delle soluzioni per andare avanti e per risolvere questa crisi bene qual è la conclusione di questo di questo mio discorso che ce l'ha già detto Lorenzo ma lo sappiamo tutti benissimo i cambiamenti sono potenti sono rapidi come dire non si fermano la storia ci dice che quando la tecnologia consente di fare una cosa prima o poi quella cosa qualcuno la fa meglio se c'è anche qualcuno che la governa ma comunque qualcuno comincia a farla e quel qualcuno ha un vantaggio su chi non la fa o su cui arriva più tardi i meccanismi della competizione vi è stato già detto sono ormai cambiati perché non si compete più soltanto per piazzare dei prodotti ma si compete per attrarre dei talenti per attrarre delle risorse la competizione dei territori è diventato l'elemento chiave nei meccanismi di distribuzione della ricchezza sul pianeta e questo pone delle sfide importantissime su come aumentare la competitività dei territori e quindi la qualità delle città la qualità del territorio la qualità della governance la qualità dei servizi la qualità dell'infrastruttura la mobilità la connessione eccetera eccetera ma il cuore di tutto e non lo dico perché siamo qui in un luogo dove si parla di formazione e non solo in questo posto ma il Formedil è una struttura che si occupa di formazione il cuore di tutto questo c'è non solo la capacità di competere dei territori ma la capacità di far sì che le tecnologie non ci creino solo dei problemi ma c'è che li risolvano cioè le tecnologie sono dei cicli una tecnologia rompe degli schemi crea nuovi schemi e i nuovi schemi ci portano avanti il progresso dell'uomo funziona così per non stare dalla parte di quelli che pagano solo il prezzo degli schemi rotti ma che recuperano anche con gli schemi nuovi e magari vincono con gli schemi nuovi la miniera da scavare è quella del capitale umano cioè la l'elemento fondamentale dal quale non si può prescindere se si vuole diciamo essere tra quelli che vanno avanti nella storia e che non si non perdono posizioni non si impoveriscono bisogna lavorare fondamentalmente razionalmente efficientemente con una determinazione che io definirei ossessione sul capitale umano mi leggo qui tre frasi di un politologo economista sociologo americano Abramovitz molto bravo che a me piace molto il quale sostiene che la crescita lui usa questo concetto la crescita di lungo periodo di una paese di una società di una comunità dipende dalla congruenza del sistema economico con i regimi tecnologici i regimi tecnologici sono quelli che dettano le regole tecnologiche oggi per esempio il digitale la connessione la platform economy questo è un regime tecnologico attuale no? prima frase la crescita di lungo periodo dipende dalla congruenza del sistema tecnologico con i regimi tecnologici cosa vuol dire la congruenza del sistema economico? vuol dire che questo sistema economico è in grado di interagire e di utilizzare questi sistemi questi questi regimi tecnologici la seconda frase dice le istituzioni hanno un ruolo cruciale nel sostenere il garado di congruenza perché da esse dipende la propensione di una società all'innovazione e quindi alla crescita ove per istituzioni non si intende solo la camera e il senato le istituzioni sono la classe dirigente sono le regole del gioco sono l'ambiente culturale sono i sistemi formativi sono la sanità la giustizia queste sono le istituzioni cioè il quadro nel quale una società opera e dal quale viene modellata questa società se le istituzioni favoriscono la congruenza del sistema economico con i regimi tecnologici questa società cresce ultima frase e qui chiudo la dotazione di capitale umano determina direttamente la capacità di usare adattare e sviluppare le nuove tecnologie quindi la la radice e l'albero e i frutti dell'albero sono la stessa cosa il capitale umano grazie